Il film che non nasce dal cinema ma da un'esperienza d'arte cinematografica Questo film non ha bisogno di frasi pubblicitarie, la critica italiana già ve lo raccomanda e ve lo indica come un film da vedere Impastato di brutalità e di sottile perversione Un linguaggio spoglio e colto, un altro segno della complessa vitalità del cinema italiano Diretto con innegabile intelligenza Ricordate È un film che potete discutere, accettare, respingere Ma che comunque impegnerà la vostra intelligenza in un gioco che non sempre il cinema offre Non perdete l'occasione per una volta di vedere un film intelligente Volevo dirle che chi ascolta il jazz e iacula precocemente Santo diavolone Un ensemble jazz È al tempo stesso un meccanismo per castrare e per fottere